brum brum bentornati allora faccio un video perché oggi è il mio compleanno un bel bicchiere di barbaresco alla salute di tutti è il regalo di compleanno me l'ha fatto la ferrari perché ha appena annunciato che louis hamilton sarà il pilota ferrari a partire dal 2025 adesso potremmo pensare che emilton è stato un nemico della ferrari per tanti anni e molti tifosi non apprezzeranno inizialmente ma mio ricordo quando ero ragazzino che anche per schumacher c'era questo tipo di astio ma non non dobbiamo essere così non dobbiamo pensare che emilton ha odiato la ferrari emilton è un pilota come pilota fa il suo comodo fa quello che gli permette di arrivare al top lui vuole vincere e giustamente compete per farlo poi se ti fa uno sgarro perché ti corre contro devi accettare che è un pilota che ha vinto 103 gare 103 gare altro giorno mio figlio mi chiedeva papà quante gare ha vinto le clerche 5 ed emilton 103 e sai cosa vuol dire vincere 103 gare o con ha vinto una gara per puro caso emilton ha vinto 103 dominando la maggior parte di queste è una cosa interessante affascinante perché emilton avrà 40 anni nel momento in cui salirà sulla ferrari perché il contratto partirà dal 2025 io spiegherei un anticipo mi sarebbe piaciuto vedere emilton nel 2024 sicuramente perché lo vorrei vedere più giovane possibile quello che io penso è che se emilton ha deciso di venire in ferrari perché l'ha deciso lui di venire in ferrari la ferrari l'avebbe preso anni fa se emilton è deciso di venire in ferrari perché lui pensa di trovare la macchina giusta la macchina che gli permette di vincere il campionato del mondo è un buon auspicio è un buon auspicio ciò che poi io penso a proposito di emilton è che nonostante lui abbia 40 anni sia un pilota lucidissimo fisicamente in una forma incredibile strepitosa e come adesso mi diceva ma viene a 40 anni io gli ho risposto guarda cosa fa alonso a 43 anni con la son martin pensate cosa può fare emilton con una macchina al top un altro discorso è stato quello di emilton che arriva a svernare io non penso che emilton vada a svernare alla ferrari il mio la mia idea è che lui voglia vincere l'ottavo campionato del mondo nella squadra più ambita e voglia dimostrare a tutti che vincendo l'ottavo campionato del mondo con la ferrari con la macchina che ha fatto grande il più grande di tutti che è stato michael schumacher lui diventerà il più grande pilota della storia per fare questo avrà bisogno prima di tutto di una macchina ultra competitiva perché la red bull dell'anno scorso e sicuramente quella di quest'anno sono saranno le macchine più dominanti di sempre non mi ricordo una macchina che ha vinto tutti i gran premi che ha vinto la red bull ne ha vinti tutti tranne una tutti tranne una 22 gare quante gare ha vinto la red bull l'anno scorso e l'altro fatto è che lui dovrà battere berstappen ma secondo me lui è l'unico pilota che veramente lo può battere è l'unico pilota che ha quella visione di gara quella forza interiore che non lo fa mollare mai è la cosa che mi ha sempre stupito di emilton oltre la velocità si è sempre saputo che emilton è stato un grandissimo pilota da qualifica è stata la capacità di trovare il giro nei momenti difficili io mi ricordo quel gran premio di monaco in cui lui andò a sbattere forò e causò una safety car c'era massa primo e grazie alla safety car lui riuscì a vincere quella gara e riesce a tirare fuori dal cilindro queste situazioni che sono poi quelle che l'hanno portato a diventare uno dei più grandi piloti della storia perciò ben venga lui semitone in ferrari charles clerc cosa farà charles clerc deve fare attenzione perché la sua debolezza è proprio l'attitudine in gara la tenuta mentale nell'arco di una gara e come dicevo a lele scrivo su facebook dobbiamo fare attenzione che non si barrichellizzi ovvero che non diventa il cocco dei tifosi e in realtà poi viene massacrato in pista da emilton vedremo cosa succederà ripeto auspico un anticipo al 2024 di emilton in ferrari non penso che si verificherà per una questione contrattuale perché c'è science che ancora un contratto lo stesso emilton ha un anno di contratto ma penso che sia una delle notizie più interessanti nella formula 1 degli ultimi dieci anni io non avrei mai pensato che emilton potesse venire in ferrari ma a questo punto gli faccio un grande in bocca al lupo e lo accolgo a braccia aperte augurandomi un suo la sua vittoria mondiale con la rossa di modena vi saluto brum brum